Ottavo turno del campionato di eccellenza, che potrebbe delineare in maniera più chiara la corsa per la testa della classifica. Domenica il Big Match andrà in scena al D'Angelo di Altamura tra la formazione murgiana, attuale capolista, e il Casarano, mentre il Cerignola, seconda in graduatoria, affronterà tra le Muramiche l'Atletico Vieste. Non vuole perdere contatto con i piani alti della classifica, il barletta di Francesco Bitetto che sarà impegnato in trasferta sullo sticocampo del Novoli. Il tecnico biancorosso per la sfida intera salentina recupera Lissi e Pizzutelli, mentre resterà ai box lorrusso infortunatosi nel match domenica scorsa contro il team Altamura. Dopo un inizio difficile, un calendario non proprio agevole, la squadra barletta ha l'opportunità di poter recuperare dei punti dalla vetta contro avversari sulla carta non proibitivi. Dopo aver ritrovato la vittoria grazie alla rotonda affermazione al cospetto della Vigortrani, l'Unione Calciobisceglie punta ad inanellare il secondo successo consecutivo che possa riscattare gli ultimi meritati stop. Gli azzurri navigano a centro classifica la sfida casalinga sul sintetico di Terlizzi contro il Galatina, potrebbe rilanciare le quotazioni del team allenato da Gino Zinfollino. Il tecnico biscelliese non potrà contare su Moscelli al terzo ed ultimo turno di stop, restano da verificare le condizioni dei convalescenti Serri e Quaquarelli, mentre tra le file ospiti non ci sarà lo squalificato Francesco Greco. Torna nel sereno in casa Vigortrani dopo la risoluzione della crisi societaria e la nomina presidente di Michele Amato, con a fianco il neo vicepresidente Alberto Altieri. Per quel che riguarda la sfida in casa al forte Bitonto, sul rettangolo di gioco scenderà ancora una formazione piena di giovanissimi, con qualche innesto dell'ultima ora. Le operazioni di robostimento della rosa avranno inizio a partire dal lunedì.